La sconvolgente, quantomeno lasciatemi dire anche fantomatica apertura di Lukaku alla Juventus, no non ci stiamo inventando nulla, l'ho appena detto Gianluca Di Marzio, anticipato tutti la gazzetta parlando di accordo tra Inter e Chelsea, ma avvocato barra agente di Lukaku non si trova da nessuna parte, il giocatore pare che non si sia fatto sentire neanche con i compagni di squadra abbia in qualche modo raffreddato i rapporti e ripeto io adesso riprenderò pane pane vino vino quello che possiamo leggere anche sul sito di Gianluca Di Marzio, quindi non mi voglio inventare nulla e sulla base di questo andiamo anche a discutere, andiamo anche a discutere signori miei, ma arriviamoci, no? Diamo prima la notizia, il caso Lukaku diventa un vero e proprio intrigo, da diverse settimane l'Inter ha contato con il Chelsea e l'entourage di Romero Lukaku per provare a riportare il Berga a Milano, oggi i Nerazzurri sarebbero pronti a chiudere con il Chelsea, tuttavia nonostante l'attaccante, abbiamo ribadito più volte la volontà di rimanere all'Inter, il suo comportamento negli ultimi giorni, quindi non parliamo soltanto proprio dell'aggiornata odierna, ma di qualche giorno a questa parte, il suo comportamento avrebbe deluso il club nero-azzurro, al momento l'Inter è molto amareggiata perché il giocatore non sta rispondendo né ai dirigenti né agli ex compagni di squadra, inoltre i nerazzurri hanno scoperto un'apertura alla Juventus da parte dell'attaccante, nonostante avesse dichiarato in precedenza che non avrebbe mai indossato una maglia bianconera, e poi ci ricordiamo tutti i 5 mai, lo andremo a rispolverare questo discorso, anche perché ogni volta che mi vedo qualsiasi trasmissione sportiva, ci piazzano sempre quell'intervista datata a Natale 2021, dove alla domanda, eh ma un futuro al Milan, alle Juventus, mai 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 da parte di Lucano. L'Inter è pronta a offrire al Chelsea 35 milioni più 5 di bonus, ma ha scoperto che la Juventus ha offerto a mercoledì la stessa cifra, o meglio 37,5 più 2,5 di bonus, ma il tutto è vincolato e condizionato dalla cessione di Vlaovic, che dovrebbe arrivare entro il 4 agosto ovviamente. Il Chelsea invece preferirebbe cedere Lukaku in tempi brevi, tuttavia frenare l'Inter è proprio il comportamento dell'attaccante. Lukaku ha quindi aperto alla Juve, parlando con il club bianconero tramite il suo avvocato. Non mi sto inventando nulla, il Chelsea vuole chiudere l'operazione e l'Inter potrebbe soddisfare le richieste della società inglese con i soldi derivanti dalla cessione di Onana, tuttavia visti gli ultimi sviluppi, non è da escludere che l'Inter decida di mollare la presa se Lukaku non dimostrerà un atteggiamento diverso nelle prossime ore. Questa è la notizia, vi invito come al solito a iscrivervi al canale, a lasciare un like se volete altri contenuti e mi scuserete se in questo periodo, diciamo estivo, mi metto anche un pochettino da parte, perché capite bene che il calciomercato sì, mi diletto ogni tanto, però alla lunga mi stanca anche. Quindi per avere tutti gli aggiornamenti in tempo reale su qualsiasi notizia vi invito e vi rimando sempre all'applicazione OneFootlook che è gratuita e gratuitamente siete lì attivi e non vi perdete nulla di quello che arriva e di quella che è la deriva del calciomercato italiano ed è veramente un vero e proprio strazio mercato, incredibile ma vero, quindi scaricate il link in descrizione all'app gratuita. Allora, da dove partiamo innanzitutto? Partiamo dal fatto che la Juventus sia interessata e non mi stupisce, perché andare oggi a prendere un giocatore sì, direte voi, 35 più 5, quindi sostanzialmente 40 milioni per un giocatore come Lukaku, io non li trovo esagerati, io non li trovo esagerati perché è vero, parliamo di un giocatore che al Chelsea ha indubbiamente fallito, qualcuno parlerà di fallimento condiviso magari con l'allenatore o comunque non ha dimostrato a quei livelli di sapere, raccontatelo come vi pare, ma la realtà è una e una soltanto. All'Inter, nell'Inter di Conte, praticamente è stato il giocatore più importante, numeri alla mano, e nell'Inter di Inzaghi, giocando praticamente un mese, e io, attenzione, non sono un fanatico di Lukaku, voglio dirlo, non sono un fanatico di Lukaku, anzi, anzi, vi dico la verità, anzi, 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 però la verità è che un giocatore come Lukaku, anche in un solo mese, perché un mese ha giocato quest'anno, un mese tra infortuni, mondiale, situazioni varie, allenatore che lo ha conteso con Dzeko più e più volte, lui ha giocato un mese, e in quel mese è andato in doppia cifra, cioè giocando un mese ha prodotto quantomeno 10 gol, quindi immaginate voi, in una stagione di Serie A, cosa può fare Lukaku? 25-30 gol stagionali ti li fa tranquillamente, ma proprio tranquillamente, quindi l'interesse della Juventus lo capisco bene, avere Lukaku, ovviamente, non a mezzo servizio, ma a un quarto di servizio, come l'abbiamo avuto noi l'anno scorso, non ha alcun senso, ma abbiamo visto nella fase finale che Lukaku si è ripreso dal punto di vista della condizione fisica, poi mi direte, sbagli con la porta vuota? Sì, 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 lì ha quei colpi, sì, sì, ma è anche quello che, ripeto, ti tira fuori 25-30 gol stagionali, magari non è da partita singola nella partita che uno dice in questa partita Lukaku, ma in un campionato dove la maggior parte della squadra sono di medio-basso livello, non neghiamo, Lukaku ti fa vincere il campionato, o comunque ti mette nelle condizioni di alzare la percentuale di vittoria, te la alza la percentuale di vittoria, non prendiamoci in giro, quindi non mi stupisce questo affondo della Juventus, e quindi la Juventus stessa ci sta mettendo la faccia, attenzione, la Juventus stessa nel momento in cui presenta un'offerta, e c'è, è detto, lo dice la gazzetta, lo ha detto soprattutto Sky l'originale, vengo proprio adesso, sentendo Di Marzio, l'ha detto più volte, quindi c'è, la Juventus ci mette la faccia, la Juventus fa l'offerta, perché? Perché sicuramente avrà constatato davvero un'apertura da parte del giocatore, perché ad oggi, alla fine della fiera, se l'Inter ha trovato questi benedetti soldi che arrivano dall'eccessione di Onana, che domani dovrebbe essere praticamente ufficializzata, e l'Inter ha trovato anche l'accordo, quindi con il Chelsea stesso, se in questo momento non si concretizza perché il giocatore e gli agenti, o comunque gli avvocati del giocatore stesso, questo fantomatico Ledur, che non si trova e che non risponde, significa davvero che c'è qualcosa che non torna, significa davvero che qualcosa non va. E io sono partito dicendo la sconvolgente, o fantomatica, no? Anche fantomatica apertura di Lukaku, io ormai non mi stupisco di niente, non mi stupirei, raga, non mi stupirei, ormai ne ho viste di pagliacciate, ne ho viste di schifezze, di porcherie, perché questa sarebbe una porcheria, ma la porcheria non sarebbe accettare andare alla Juventus dopo aver detto mille volte mai, 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 mai. La porcheria è appunto fare quelle interviste, preso da quel momento, no? Per riabilitare la tua immagine con i tifosi dell'Inter, tu dici un mai, 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 che poi sei pronto a rinnegarlo dopo un anno e mezzo. Ecco, per l'ennesima volta mi porta a dire, non fatele, tu che sia Lukaku, tu che puoi essere Tonali, tu che puoi essere Donna Rum in passato, chiunque, non vi professate tifosi delle squadre. È un discorso che oggi ho fatto, che ho già fatto, ho già discusso più, lo ribadisco, giocatori, chiunque siate, non vi professate tifosi, perché non dovete prendere in giro nessuno. Ormai il sottoscritto non lo prenderete mai in giro, perché io veramente, nonostante una parte di me sia nauseata da questa prospettiva, io sono nauseato da questa prospettiva, ma dall'altra, io ormai so assuefatto, ne so conscio che questo può accadere, però lo ribadisco, soprattutto ai calciatori futuri, non vi professate tifosi, non vi abbellite con i vostri presunti tifosi, no? Facendogli crede boiate, non fatelo, non fate, non serve, non servono i mai, e non servono i per sempre, perché ci sono talmente tante variabili, sia nella vita come nel calcio, che il mai e il per sempre non va detto, appunto, mai, ecco, se è possibile. Vediamo, vediamo come, come si vince, dal punto di vista calcistico, sarebbe, sarebbe un plus contro me, io, quello che ho detto in passato, non è che mi posso cambiare poi le carte in tavola, in base a come, a come proseguono gli sviluppi, non posso cambiare le carte in tavola, le carte le ho già messe sul tavolo, e le carte rimangono quelle, e sul tavolo, cosa ho detto, cosa ho messo, ho messo i numeri di Lukaku, quello che può dare una squadra di calcio di Serie A, per il calcio che facciamo in Italia, per le caratteristiche che ha il giocatore, e per me, questo sarebbe un giocatore che, che sposterebbe, che potrebbe spostare gli equilibri, ovviamente, se sta bene, ecco, ovviamente se sta bene, e se è quello che abbiamo visto, nell'Inter, ma non dico nell'Inter di Conto, che lì era proprio al massimo, ma anche nell'ultimo mese di Inzaghi, se sta bene, un giocatore del genere, ripeto, che in un mese ti fa 10 gol, figuratevi cosa può fare in una stagione, vediamo, non sto qui, comunque, in qualche modo, a piangermi addosso, vedremo, anche perché piangere per, per chi si comporterebbe, in una situazione, in un qualche modo, vabbè, comunque, per, quello che è certo, è che ascoltando Di Marzio, e chiudo, perché mi sono anche dilongato, ho la sensazione, che si è stato molto imbeccato, comunque, dall'Inter stesso, dal boarding, come si dice, dallo staff dell'Inter, volete Marotta, volete Auxilio, no? Ha detto più riprese, l'Inter è molto arrabbiato, lo ha detto, è imbeccato appunto, dei vari Marotti, della situazione, che sta richiamando un po', un po' all'ordine, non esce nulla per caso, ragazzi, non esce nulla per caso, e se è uscita fuori sta roba, è perché qualcosa, qualcosa è cambiato, poi non si farà, poi l'Oriventus, l'Oriventus non lo prende, magari l'Oriventus non cede neanche Vlaovic, ci sono talmente tante variabili, ma c'è il fatto che oggi, si parla di una possibile, anzi, parla proprio di un'apertura, non una possibile, di un'apertura, di l'Oriventus, questo fa capire che, per favore, non siate pagliacci, non siate da circo, siate uomini, e non professatevi tifosi, perché i tifosi non lo siete, nel momento in cui venite pagati, profumatamente, non potete essere tifosi, di una squadra, siete dei professionisti, e quindi io invito a questi, a Lukaku nella fattispecie, a comportarsi come tale, punto, punto, ma non per la scelta, che deve fare adesso, per quello che ha detto, nell'intervista prima, sempre, fatemi sapere cosa ne pensate, un grande abbraccio da Neschio, buonanotte signori miei, buonanotte, stasera proprio, ve l'ho buttata lì, intervista, un grande abbraccio! a parte! un grande abbraccio! Grazie a tutti.